Ciao a tutti da Vittorio, c'è secondo me un problema, vabbè qualcuno potrebbe dire che ce ne sono più di uno all'interno della Lazio, ma secondo me c'è un problema che lo ha spiegato benissimo Maurizio Sarli un paio di giorni fa, un problema che potrebbe condizionare il mercato futuro della Lazio. Maurizio Sarli al Gran Calata del Calcio ha detto di avere un rapporto splendido con Claudio Lotito, il presidente lui lo chiama addirittura Claudio, però ha sottolineato come negli ultimi mesi il presidente della Lazio sia stato molto assente. Adesso senatore, il presidente della Lazio è praticamente sparito, si è fatto vedere pochissimo a Formello, solo il sabato prima del derby è stato lì e Sarli lo ha detto, lo ha fatto capire, è un'assenza importante perché è il presidente della Lazio. Ma qualcuno potrebbe dire sì, ma perché è così importante, visto che il presidente dell'Inter è spesso in Cina, il presidente del Milan è quasi sempre in America, c'è una differenza importante fra Lazio e queste squadre. Mentre l'Inter ha qualcosa come 21 dirigenti, la Lazio dal punto di vista organizzativo è una società molto snella, c'è l'allenatore, c'è il direttore sportivo, c'è il presidente, basta. Dal punto di vista della catena organizzativa ci sono queste tre figure, mentre l'Inter ha un direttore sportivo, un CEO eccetera eccetera, la Lazio ha solo queste tre figure. E quindi quando manca il presidente l'organizzazione lavorativa si ferma, soprattutto dal punto di vista del mercato o dei rinnovi eccetera eccetera, la Lazio si ferma. E per questo l'assenza di Lotito è un'assenza pericolosa, è un'assenza grave perché o il presidente della Lazio decide di abbandonare questo ruolo e mettere qualcuno al suo posto con potere ovviamente esecutivo, ovvero quello di stipulare rinnovi, fare accordi eccetera eccetera, oppure Lotito deve tornare ad avere una presenza più costante al formello, non solo al formello ma in generale un rapporto più continuo con Sarri e il direttore sportivo. Perché? Sarri l'ha fatto capire, bisogna dialogare spesso, sia la squadra sia l'allenatore hanno bisogno di una presenza costante del presidente, soprattutto una società così snella come la Lazio, ma anche perché adesso si organizza il calciomercato di quest'estate, non si può partire a giugno o luglio, bisogna partire adesso. E Lotito l'abbiamo visto soprattutto negli ultimi due sessioni estive, la sua presenza è stata fondamentale, è stato lui a sbloccare molte trattative, è stato lui a farle direttamente alcune trattative, per cui la presenza di Lotito è, vuoi non vuoi, fondamentale in questa Lazio. Per questo, per continuare a crescere, Lotito deve prendere una decisione. Sarri ha detto che il presidente gli ha promesso che sarà più presente a Formello, ce l'auguriamo tutti perché la sua assenza si può far sentire e io parlo soprattutto di calciomercato, ma secondo me la sua presenza è importante anche per la squadra. L'abbiamo visto, sabato prima del derby è andato a Formello a parlare con i calciatori, adesso ovviamente non è sicuramente merito di Lotito se la Lazio ha vinto il derby, però sicuramente la presenza del presidente si è fatta sentire e ha dato una carica ulteriore ai giocatori. E quindi, ripeto, la presenza di Lotito è importante. Invece quello che sta succedendo è che Lotito sta mettendo i propri familiari all'interno della società e secondo me questo è uno sbagliatissimo, due, non dà sicuramente lo stesso apporto che darebbe il presidente, perché il figlio Enrico è alle prime armi, non sappiamo se avrà le qualità del padre che può essere criticato tantissimo, ma sicuramente ha fatto delle cose molto valide. Enrico è alle prime armi e è un punto di domanda, io onestamente avrei messo qualcuno con esperienza nel settore giovanile, con esperienza nel calcio femminile, anziché darlo a mio figlio. Discorso simile con la presenza della moglie che abbiamo letto settimana scorsa è entrata nell'organizzazione della Lazio e sarà una presenza fissa a Formello per far sì che le regole vengano rispettate. Anche qui io non discuto le qualità della moglie di Lotito, ma devi prendere qualcuno che viene dal mondo del calcio, qualcuno che abbia esperienza calcistica, eccetera, eccetera. Queste non sono le soluzioni per risolvere il problema dell'assenza di Lotito. O prendi un direttore sportivo, un presidente, uno che può fare la carica da presidente, che quindi conosce benissimo il calcio, oppure ci devi stare te. Mettere tua moglie, mettere tuo figlio non è la soluzione ideale per risolvere questo problema. Il problema è importante perché, ripeto, poi Sarri non è che va a parlare al figlio di Lotito o alla moglie, vuole parlare con il presidente perché è il suo filo diretto e quindi serve la disponibilità di Lotito. Lotito che deve anche risolvere un grosso problema, ovvero la vicenda Sarri-Tare, perché anche al derby è successa un'altra cosa che non mi fa impazzire. Dopo il derby, infatti, Sarri ha parlato prima con Lotito, perché dopo il derby Lotito ha prima parlato con Sarri e poi parlato con Tare. Credo che sia tantissimo tempo che i tre non si siedono a un tavolo a discutere insieme. Segno evidente del problema fra direttore sportivo e allenatore della Lazio. Problema che non si può protrarre. Bisogna risolverlo una volta per tutte. O i due fanno, tra virgolette, pace, oppure uno dei due deve lasciare la Lazio. E visto il rendimento di Sarri, io non ho dubbi su chi deve lasciare Roma. Però non sono presidente della Lazio e quindi Lotito deve prendere questa decisione. O far convivere i due, oppure cambiare direttore sportivo. Però, secondo me, il problema Lotito è un problema abbastanza importante. Ovviamente questo è il mio giudizio, quello è il tuo. Scriviti al commento qua sotto e noi ci rivediamo prossimamente in un altro video. Ciao! Scriviti al commento qua sotto e noi ci rivediamo prossimamente in un altro video.